Bentornati, il video di oggi è dedicato a tutti i figli di Arnaud. Chi sono i figli di Arnaud? I figli di Arnaud sono coloro i quali negli ultimi mesi si sono fatti mettere in testa da persone dalla dubbia moralità che popolano il web e le televisioni che il magnate francese, nonostante una buona quantità di smentite, sarà a brevissimo il nostro futuro presidente. Ebbene io voglio dire a queste persone che mi dispiace se si sono illuse e si sono fatte illudere, a tal proposito su Instagram ho pubblicato un video dove analizzo la figura sia di chi ascolta ma soprattutto di chi parla di queste cose, ebbene se posso darvi un consiglio mettetevi in testa che Elliot rimarrà ancora almeno tre anni. E infatti questa è la misura secondo me del progetto che il fondo di Singer ha in mente per rilanciare il Milan. Naturalmente rilanciare il Milan non vuol dire purtroppo risultati sportivi e vittorie, vuol dire costruzione di un progetto fatto per portarci stabilmente in Champions League e permetterci di aumentare il fatturato. E perché lo dico? Perché questa era l'idea originaria di Elliot, non appena entrato nel mondo dello sport, che è un mondo che tra l'altro non gli appartiene perché Elliot fa business in altri settori, ebbene fin da subito Elliot aveva deciso di portare il Milan in Champions League e di fare quello che in una espressione terribile, ma che sono costretto a usare, viene definito all in, cioè tutto subito e tutto in una volta. L'ha provato a fare con Fassone Mirabelli, perché ricordiamo che Elliot era già coinvolto nel finanziamento al mitologico Jong-un Lee, dando una parte dei denari necessari per quella faraonica quanto infruttuosa campagna acquisti, e poi dando direttamente carta bianca a Leonardo per la costruzione di una squadra che avrebbe dovuto portarci in Champions League e che in Champions League non ci ha portato per un punto, ma che comunque non ha permesso di raggiungere l'obiettivo. Quindi, bilanci disastrosi, situazione sportiva che non migliora, Elliot ha bisogno di altro. E ha bisogno di altro perché? Perché deve attendere anche di capire come procederà la questione dello stadio, ma nel frattempo deve allestire una squadra che permetta stabilmente l'entrata in Champions League con tutti i proventi del caso, perché questo è un aspetto fondamentale che non dobbiamo mai dimenticare. Una situazione, quella del Milan, che Elliot si è venuto a trovare, che ha ereditato, che sappiamo essere disastrosa per via di un bilancio che va assolutamente sistemato, di un fair play finanziario che, ai voi, va rispettato, perché ancora c'è qualcuno convinto che anche se arriva al magnate, che anzi non anche, se arriva al magnate la cosa viene sorpassata, bypassata, distrutta, mangiata, fagogitata e spuntata, ebbene, così non sarà. Almeno fino a quando le regole del fair play finanziario saranno quelle vigenti. In ogni caso, come dicevo, le malagestioni che cosa hanno portato? Hanno portato a quello che ci racconta oggi KPMG. Chi è KPMG? Leggo da Wikipedia, così sarò preciso, una rete di società indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative, fornitura di servizi professionali alle imprese specializzato nella revisione e organizzazione contabile. Sapete che di tanto in tanto esce il report di questa società che ci racconta un po' la situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle società di calcio. Ebbene, in tutta Europa, l'una delle poche, pochissime, forse l'unica squadra che non cresce dal punto di vista di valore è il Milan. E infatti il club rossonero è l'unico in tutta Europa a valere meno rispetto a 5 anni fa, meno 3% riguardo la valutazione aziendale. Secondo KPMG il valore attuale del club rossonero è di 526 milioni di euro. Quindi adesso naturalmente qualcuno poi dirà che allora a Elliot basta vendere 600, ma i calcoli sono leggermente più complessi. Quindi che cosa vuole fare Elliot per ripartire? Come vi dicevo, vuole instaurare un nuovo progetto, vuole creare una nuova idea di gestione del calcio, lo farà attraverso, lo sappiamo, l'arrivo di Ralf Rangnick e lo farà, come ci racconta anche la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, lo farà attraverso un piano triennale. Un piano triennale con il rilancio del club, con la gestione di Rangnick, con un mercato fatto di acquisti di giovani promettenti, la Gazzetta dello Sport semplifica dicendo poi per rivendere e fare player trading, ma questa lo sappiamo è ormai una consuetudine di tutte le squadre, per cui il punto non è lì, il punto è che detta così sembra una cosa da poracci, in realtà anche lì è un pochino più complessa. In ogni caso il piano triennale prevederà ovviamente in mezzo alla costruzione dello stadio o comunque la partecipazione alla costruzione dello stadio e il rilancio di una squadra che possa essere giovane, moderna e competitiva. Naturalmente tutti noi incrociamo l'incrociabile affinché questo piano possa realizzarsi. Vediamo le questioni di campo. In vista della ripartenza del campionato oggi, tra l'altro, sapremo se e quando il campionato ripartirà. Ieri è uscita anche la notizia di una positività da parte di qualcuno dello staff del Bologna, la cosa potrebbe diventare un po' un bastone tra le ruote per la ripartenza di un campionato che come sappiamo è legato a tanti fattori, a tanti protocolli, a tanta burocrazia, come sempre. Oggi ne sapremo di più. Nel frattempo Zalata di Ibrahimovic è tornato in Svezia, è tornato dalla sua famiglia perché come ben sappiamo, come ci racconta Orwell nella fattoria degli animali, tutti gli animali sono uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri. Quindi Ibra giustamente fa un po' come gli pare, è preso e è partito per la Svezia. Passerà una settimana in famiglia. In ogni caso, a detta del Corriere della Sera, Ibrahimovic ha una missione. Quindi dalla Svezia elabora la sua missione. Qual è la missione di Ibra? Ibra vuole tornare il prima possibile dopo una settimana a casa. L'obiettivo è rientrare per inizio metà luglio e quindi perdere le prime due, tre, quattro partite ma giocare le otto, nove, dieci partite che restano per provare a portare il Milan in Europa. E questo è l'obiettivo di Ibrahimovic. L'obiettivo di Pioli penso sia lo stesso, sempre come detto che il Milan voglia centrare la qualificazione europea, ma qui non facciamo complotti e non facciamo terrapiattismi, per cui facciamo finta di sì, cioè pensiamo che effettivamente il Milan voglia qualificarsi per l'Europa League e voglia tornare a partecipare alle Coppe Europee. Per farlo, Tutto Sport ci dà una notizia abbastanza sconvolgente, che però secondo me rispetta una logica, e cioè Pioli ripartirà dal 4-3-3. La formazione alla ripresa del campionato, presumendo che si giochi il campionato e non prima la Coppa Italia, potrebbe essere questa. Donnarumma in porta, Calabria-Chierro-Magnoli-Eteo in difesa, Buonaventura-Benassere-Ciaranogulo a centrocampo, Rebice-Leo-Castia, e qui è un attacco, quindi si torna al 4-3-3 di Susiana Memoria. Dice centrocampo Leggerino che se in ritardo va aspettato, non ci sono altre prime punte a disposizione da parte Ibra, e questo potrebbe essere il motivo per il quale si va verso il 4-3-3, cioè il fatto che giocando con due punte è chiaro che teoricamente ti servirebbe averne due in panchina, cioè nel caso malaugurato che entrambe si infortunio, tu dovresti avere delle riserve per poter giocare con quel modo. Probabilmente Pioli preferisce fare un passo indietro e tornare ad una formazione che poco ci aveva dato, ma in ogni caso sappiamo che il problema senza Ibra sarà non tanto un problema di moduli, quanto un problema di uomini, cioè il fatto di andare in gol con questi giocatori, che a parte Rebice, che però si avvantaggiava molto del lavoro di Ibra, i Movic e gli altri non sono certo dei fromboglieri, come si diceva una volta, ma sono dei giocatori che non hanno indotte dei gol e hanno indotte anche pochi assist, per cui come faremo gol nelle prime due, tre, quattro partite è un grande mistero. Speriamo che magari, non lo so, Leao improvvisamente, sentendo il vento d'estate, come dicevano Max Gazzè e Niccolò Fabi, possa risvegliarsi e trovare una primavera barra estate che lo consacri, come possibile potenziare il futuro. Sapete che io ho una vana speranza che Leao possa dimostrare più di quello che ha fatto vedere fino adesso, ebbene avrà la possibilità di farlo, perché giocherà lui titolare. Veniamo alle questioni di mercato. Allora, dall'Olanda arrivano notizie controverse, perché il PSV avrebbe rifiutato la proposta del Milan di uno scambio fra Denzel Dumfries e Riccardo Rodriguez, gli olandesi vogliono denaro per cedere cammello, quindi non ci sono alternative. Tra l'altro, pare che Riccardo Rodriguez non verrà riscattato dal PSV di Endoven. Situazione, naturalmente, che è tutta da definire, ma queste sono le notizie non buone che arrivano dall'Olanda. Per quel che riguarda sempre questioni di difesa, ieri si era sparsa la voce, abbastanza ironica, di una possibilità di scambio Romagnoli-Milenkovic, trattativa che in realtà non è mai nata, però sappiamo che il Milan è interessato al difensore Viola, per il quale si faceva una quotazione nei giorni scorsi di 30 milioni di euro, che mi sembra sinceramente esagerata. Tra l'altro, un altro giocatore più o meno sempre intorno a quella cifra è Ayer, il difensore norvegese del Celtic, il quale piace molto agli osservatori del Milan, ma sappiamo che i prezzi da quelle parti sono piuttosto alti. Il club scozzese, a quanto si dice, chiede una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Naturalmente lì sono scelte di filosofia, nel senso che ovviamente almeno un acquisto dovrà essere fatto, non dico dispendioso in termini economici, ma dovrà essere un investimento importante. Vedremo se sarà fatto in attacco, piuttosto che in difesa, piuttosto che a centro campo. Naturalmente parlo di acquisto a titolo definitivo, non con le varie formule che possiamo mettere in atto. Si continua a parlare di Tiago Silva, io ve ne ho già parlato ieri, secondo As, Leonardo e Tiago Silva non hanno trovato l'accordo per il prolungamento del contratto, per cui Tiago Silva, teoricamente dal 1 luglio, o comunque da quando scadrà il contratto, sarà un giocatore svincolato. Il Milan è la pista più gradita, ma occhio anche a un possibile ritorno in Brasile. Io vorrei dirvi soltanto questa cosa, Tiago Silva a Paris Saint-Germain guadagna 12 milioni di euro a stagione, se dovesse venire da noi dovrebbe ridurselo, molto meno della metà. Già questo mi sembra impossibile per un giocatore che onestamente nella carriera ha tenuto sempre molto in considerazione l'aspetto economico nelle sue scelte di vita, quindi basta con Tiago Silva, questa sarà l'ultima volta che io pronuncerò il nome di Tiago Silva. Chi invece prepara un'offerta importante per un giocatore interessante è il Napoli. Secondo Quotidiano.net, il Napoli è pronto a presentare l'offerta al Sassuolo per Bogat. De Laurentiis vorrebbe offrire tra i 20 e i 25 milioni di euro. La notizia curiosa è che oggi Bogat costa 30 milioni di euro, quindi Bogat è un giocatore, ricordate, a proposito di gioco, ricordate il famoso gioco del Borsini, per il quale il Milan c'erano le quotazioni, c'erano le variazioni, le percentuali, ebbene Bogat costa 10 milioni di euro al giorno, quindi sicuramente sarà un investimento importante e come direbbe Totò. Chiudiamo con notizia d'attacco. Notizia d'attacco, perché? Perché ogni volta che andiamo su un giocatore, tempo, poche ore, e tutti si fiondano sopra. Adesso è il momento di Djukajovic. L'Inter sappiamo che sta cercando un attaccante, sappiamo che ci sta provando con Cavani, sappiamo che probabilmente cederà Lautaro Martínez, almeno questo ausilio ieri ha detto che Lautaro se ne andrà, o Lautaro, adesso non so nemmeno come si dice, comunque se ne andrà, se qualcuno pagherà la clausola, per cui non è che ha chiuso definitivamente alla cessione del giocatore. Poi siccome il Barcellona possa andare a pagare anche quella clausola è un altro discorso. Comunque restiamo all'attualità. In quel caso l'Inter sarebbe alla ricerca di una seconda punta, che potrebbe essere Cavani, che non lo so se ben si sposa con Lukaku, in ogni caso affari loro, ma potrebbe essere anche Luka Jovic. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, i soldi che l'Inter reinvestirà, non tanto dall'accessione di Lautaro, che è ancora in alto mare, quanto dall'accessione di Cardi da Paris Saint-Germain, che a detta dei giornali è cosa praticamente fatta. Il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a riscattare i Cardi per 60 milioni di euro. Così ci mettiamo via anche il nome di Cardi legato al Milan. E quindi Jovic potrebbe diventare una soluzione. È chiaro che come seconda punta sarebbe praticamente perfetta per il gioco di Conte con Lukaku. Speriamo che questo non avvenga. Io, sapete, sono molto favorevole all'idea che Jovic possa venire al Milan perché lo considero un giocatore di grande talento con delle qualità che non si trovano facilmente in un attaccante e soprattutto che ha bisogno di ritrovare la sua dimensione. E a mio avviso in un progetto serio, come mi auguro possa essere quello di Rangnick, credo che riuscirebbe a ritrovare la sua dimensione. Questo è quanto. Naturalmente attendo i vostri commenti, che sono sempre graditi e molto interessanti, nel frattempo mettete un like al video, iscrivetevi al canale, andate a leggere il blog se ancora non l'avete fatto e perché non l'avete fatto. E noi ci vediamo domani.